Ciao Fabio, Fabio De Angelis, responsabile Audio Quality Milano, che cosa combini questo weekend? Ci divertiamo con le nuove perliste che sono ormai rodate, sono da due mesi e mezzo in negozio, quindi ci divertiamo a sentire un po' di musica e poi un po' sbobinare. Senti, ho visto che c'è un nuovo sistema nella tua bellissima showroom a Milano 2, che conosciamo già a teatro di parecchi eventi con AV Magazine, visto che hai già comunque tre videoproiettori, hai due Sony e un Benchiuso, non sbaglio? Esatto, 5.7.000, esatto, esatto. E su un schermo LR molto grande però hai una bella showroom con trattamento acustico visto con Artnovion, bellissimo, bellissimi pannelli, e un sistema con, avevo visto, sorgente Oppo, più hai comunque un HTPC e poi c'è il Trinov. C'è il Trinov, ovviamente ci sono i finaliati, ci sono tre sub, perché abbiamo due per l'Esten da 12 pollici, e devo dire che ci sono piaciuti molto. Noi avevamo provato già in fiera l'anno scorso, abbiamo fatto la saletta con quelli, diciamo... Con le lavatrici, con le tre, con le tre, sì. C'ero io, ma mi ricordo bene. Probabilmente il miglior sistema mai sentito in una fiera ever, e anche visto, perché c'era pure il proiettore super top. Mi ricordo molto bene. Esatto, esatto, esatto. Quindi, no, questi in ambiente, la stanza è relativamente piccola, perché è 6x4,5, quindi suonano in maniera veramente incredibile, sono molto molto controllati. Sono veramente dei prodotti eccellenti. I frontali sono veramente molto belli, li aveva sentiti in anteprima a Lise l'anno scorso, a Barcellona, in una stanza, diciamo, dedicata soltanto per suo invito, e ce l'hanno piaciute molto in stereofonia. Le avevamo volute mettere qui da noi, col centrale, col centrale della stessa serie, che è veramente, credibilmente, ben suonante. È molto, molto realistico, cioè ha questa sensazione di tridimensionalità di energia, perché comunque queste casse arrivano fino a 600 watt, quindi veramente li puoi dare in pasto tutte le energie. Sì, questa è la novità, le Berlisten sono famose per avere bassissime distorsioni, anche ad elevate pressioni sonore, che poi quello, insomma, è un po' il marchio di fabbrica. E senti, per partecipare a questo evento, quando sarà? È venerdì pomeriggio dalle tre e mezza fino alle sette, e sabato mattina dalle nove e mezza, dieci, fino all'una. Quindi abbiamo, diciamo, idealmente si va su appuntamento, in realtà si può venire un po' quando si vuole, nel senso che poi dopo siamo un po' scaglionati. Abbiamo già diversi iscritti, non abbiamo voluto affollare, quindi stiamo cercando di distribuire un po' sulle due e mezza giornate. Ok. Quindi il messaggio è non andate, cioè guardate questo video, ma non andate, non prenotate. Adesso noi le abbiamo giù, le abbiamo rodate per bene, sono molto, ormai sono pronte per essere ascoltate, quindi io comunque rimarranno qui un bel po' di tempo, perché... Ok, quindi non è solo venerdì e sabato, voglio dire, è un pianto residente che rimarrà per un po' di tempo, ok? Sì, sì, esattamente. Abbiamo un po' di clip nuove, divertenti, stiamo tirando fuori un paio di chicche audio divertenti e vabbè ci divertiamo. Benissimo. E allora poi voglio sapere com'è andata, mi raccomando. Assolutamente sì, fantastico. Ciao Fabio e buon divertimento. L'aspetto. Grazie, grazie Emi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.